Vi ricordate del coccodrillo allergico all'acqua? Ciao ragazzi ed eccoci qua ritornati su Crocs World Questa volta siamo su Crocs World 2, questo secondo capitolo E ragazzi questa è sempre una demo Sul Nintendo eShop lo potete scaricare a 4€ il gioco completo E ragazzi se vi ricordate bene ho portato il primo capitolo Crocs World nel canale Quindi lo trovate qua in alto a destra la scheda oppure qua sotto in descrizione c'è il link del video Detto ciò ragazzi andiamo avanti Allora c'è il solito mondo 1 e il mondo 2 Tra cui tocca fare solo un livello del mondo 1 perché logicamente è una prova È una demo e un livello del mondo 2 Bene iniziamo con il mondo 1 Livello 1 del mondo 1 Allora questo era il coccodrillino porello allergico all'acqua Allora si esaltava con praticamente B Ok Non posso spaccare le rocce Benissimo Ok quello che cos'era? Si schiacciano le lumache ragazzi Ok adesso si Con sto casco ragazzi da rugby possiamo spaccare tutto Boom Povera lumachina E poi sono innocue queste lumachine Altro che i tipi timido sulla serie di Super Mario Bros 2 E quelli camminano camminano Più veloci di così Questi nemici Non li troviamo Ok prendiamo queste robe Queste gemme Ma qua proprio niente Non so Porca troia No che cazzo è successo? Ho perso lo scudo Beh tanto Come posso dire Tanto stili Non sono quelle lumache Tanto tranquille Però c'è un altro potenziale Oh Abbiamo di nuovo il casco Che culo Qua spacchiamo tutto Ma non mi da niente Io sono abituato Con Mario Forse trovo qualche monetina Quello e quell'altro Ma qua proprio niente Niente abbiamo concluso il primo livello Una cazzata assurda Pazzesco Oh Stiamo penso nel mondo 2 adesso Penso livello 1 del mondo 2 Penso eh Infatti ci sono i granchi Non so Ok Li possiamo schiacciare Pensavo di no Perché avevano quelle che le lì Che Fanno zig e zag Ok Abbiamo adesso Ok Abbiamo le pietre Le possiamo lanciare con A oppure Y Lì abbiamo 19 pietre Ci fa Vedere proprio l'icona Quante pietre Abbiamo Allora qui Raccogliamo un po' di Germe Utilizziamo una pietra Boom Mori Piccolo granchio Che poi fa Fa tipo una faccia tenera Un'espressione tenera Quando muore Forello Mi fa pure pena Andiamo Oddio il piran Porca Troia il piragna Il piragna Ragazzi Non ci ha fatto niente Non lo so ragazzi Se ci ha tolto qualcosa Non ci ho fatto assolutamente caso Ok L'abbiamo ucciso Con la pietra Con la pietra magica Ragazzi Questa pietra Si fa fare Tutte di più Saltiamo Per prendere Le gemme Vai 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 Ho altre pietre Ragazzi Altre pietre Forelli Sti granchi Veramente Fanno una faccia Veramente tenera Fanno pure pena Ad ucciderli Guardate Non hanno fatto niente di male Comunque Abbiamo concluso Anche il livello 2 Niente Il trial mod Consiste Di due livelli Quindi ragazzi Penso che sia finita Già la demo così Cioè Subito Siamo stati piuttosto veloci Insomma Mi è piaciuta Di più Crocs World 1 Che praticamente questo Cioè Ma questi livelli Proprio Cazzate assurde Vabbè Comunque Fatemi sapere Se lo comprate Voi Nel Nintendo Shop Perché costa Solo 4 euro Io forse ci faremo Un pensierino Ma Non ne sono tanto convinto Quindi Meglio che proviamo La demo e basta Perché questo Crocs World 2 Veramente Mi aspettavo qualcosa Di più difficile Invece niente ragazzi Non è stato Niente di che ragazzi Vabbè Comunque Questo video breve Che raramente Te faccio Può finire Così Oggi veramente Siete stati fortunati Perché altrimenti Dovevate subire Ben 20 O 30 minuti Di video No dai Scherzo Comunque Ebbene ragazzi Questa demo Di Crocs World 2 Può finire così Spero che vi sia piaciuta E ragazzi Che ne pensate Di questo gioco Meglio Il capitolo 1 O questo capitolo Secondo Secondo me Meglio Il capitolo 1 Di solito Ragazzi Quando fanno I continui Di questi giochi Un po' Perdono Perché L'idea Un po' Si esauriscono Rispetto Al primo gioco Che hanno Prodotto Questi sviluppatori Che poi Nemmeno sappiamo Chi sono Comunque Ritornando a noi Chi ne è scritto Iscrivetevi subito Mi raccomando I social Sono qua sotto In descrizione Andatevi a seguire Anche lì Se volete Instagram Lollo02debest E Telegram Chiocciola Lollo02debest E ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Di aver visto Questo video breve A volte Ci sta Che faccio Questi video breve Ma ok E Ciao 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 Ciao